Salve a tutti, in questa video recensione vi presentiamo il regola barba Philips serie 7000 BT722015. Si tratta di un prodotto di fascia alta che consideriamo tra i migliori in assoluto, soprattutto per le particolari funzioni di cui dispone. Una caratteristica di questo regola barba è quella di avere una struttura leggermente superiore alla media perché è dotato di un serbatoio interno, una caratteristica che spiegheremo meglio dopo. Per quanto riguarda invece l'ampiezza di taglio è la solita da 30 mm circa che serve appunto per sacumare bene una barba. L'altra caratteristica molto interessante di questo apparecchio è il display intelligente che mostra esattamente la misura che viene selezionata. La misura viene selezionata tramite questa ghiera girevole che come vedete aumenta o diminuisce di 0,5 la misura scelta. Questo prodotto si alimenta tramite una batteria a litio. Sottolineiamo il fatto che il rapporto autonomia di ricarica è veramente ottimo, 80 minuti di autonomia per una sola ora di ricarica. Ci sono anche tre led che vedrete qua che indivinano lo stato della batteria. La batteria a litio è completamente esente dall'effetto memoria e in questo caso dobbiamo dire anche un'ottima potenza al motore. Il piccolo prezzo da pagare ha una rumorosità forse leggermente superiore alla media ma veramente nulla di problematico. Questo regolo a barba ha un range di taglio molto interessante. Ci sono ben 20 posizioni a disposizione con un taglio minimo da 0,5 mm che è quello preferito per chi vuole un effetto di crescita fino a una lunghezza massima di 10 mm. 10 mm sicuramente può accontentare un'ampia fascia di mercato ma non tutti perché chi vuole una barba più lunga dovrà rivolgersi a un altro tipo di prodotto. Uno dei vantaggi di questo prodotto, che è anche la caratteristica particolare, è il fatto di avere una funzione aspirante. Ovvero durante il taglio un buon 70-80% dei peli verranno aspirati e li ritroverete in questo serbatoio. Questo vi permetterà di non avere un lavandino particolarmente sporco e quindi da pulire dopo l'utilizzo. E non solo, il prodotto per avere una migliore pulizia può essere passato sotto acqua corrente, anche velocizzando appunto quello che è la post regolazione. Il kit accessorio di questo apparecchio è molto interessante, forse uno tra i migliori che abbiamo visto finora. Soprattutto per la possibilità di utilizzare questo rifinitore che ha un'ampiezza inferiore rispetto al classico trimmer. Vedete? Sono circa 15 mm e servirà appunto a chi dovrà sacomare bene la barba, a chi porta un pizzetto. Non solo, perché abbiamo anche dei relativi pettini da 3 e 5 mm che si possono utilizzare con questo rifinitore. Molto interessante ad esempio per chi ha problemi nel regolare la zona baffi. Andando avanti troviamo gli elementi per la pulizia, la classica spazzolina e questo bastoncino ricoperto da una parte spugnosa che serve appunto per pulire il serbatoio interno che sarà pieno di residui dopo la regolazione. Poi abbiamo questa semplice sacchettina, non ci dice molto in realtà ma è comunque un accessorio che può essere utile per tenere in ordine pulito il prodotto. Poi abbiamo il classico trasformatore e il pettine di cui già abbiamo parlato in precedenza che serve per la regolazione classica con la testina da 30 mm. Concludiamo dicendo che questo regolo a barba lo consigliamo a tutti coloro che portano una barba molto corta, di media lunghezza, non adatto a chi ha una barba troppo lunga, perfetto per chi vuole sacomare la barba anche con un pizzetto simili e soprattutto per chi vuole una veloce manutenzione dopo l'utilizzo. Grazie di averci seguito, vi aspettiamo alla nostra prossima videorecensione.